Siamo alla settima edizione, però quest'anno abbiamo una novità perché siamo stati particolarmente stimolati dai ragazzi rappresentanti dell'Istituto Fermi che abbiamo accolto con noi e che sono qui in questo momento, in questo luogo con Legambiente e con tante altre associazioni. Quindi sì, come voglia di far coinvolgere anche i bambini e i ragazzi. Abbiamo anche presenti i bambini dell'Academy Judo di Arona che sono con i loro genitori e stanno raccogliendo anche loro. Tutto questo per sensibilizzare la popolazione al mantenimento della città e alla raccolta differenziata. Avete raccolto molto materiale? Sì, molto, abbastanza. In particolare? Molta plastica, tantissima. C'erano siringhe, tappi di bottiglia, stecchette di lecca-lecca, cannucce di succhi di frutta, tanta plastica. È molto importante il volontariato per queste iniziative? Assolutamente sì, da assessore alla protezione civile sono state coinvolte tutte le associazioni, a partire dalle protezioni civili all'AIB. Ci hanno aiutato anche la Lega Ambiente che è qui oggi anche a fare dei rilevamenti. Hai partecipato a questa iniziativa spontaneamente? Sì, ho partecipato spontaneamente dopo che i rappresentanti dell'Istituto Fermi, passando dalle classi, ci hanno invitato cordialmente a partecipare a questa attività. Quest'anno i ragazzi hanno voluto fare questa bellissima cosa di coinvolgere gli alunni e poi il tempo non ci ha aiutato tantissimo perché questa mattina la pioggia ha un po' frenato gli entusiasmi. Però chi è venuto ha questa occasione appunto di poter anche vedere qual è il lavoro di Lega Ambiente. Secondo me è molto interessante perché abbiamo setacciato sulla sabbia per vedere proprio le micro particelle di plastica e questa è stata una cosa molto interessante. Grazie a tutti.